ciao benvenuto in questo nuovo video post dedicato al dolore questo video post è legato a quello precedente sulla paura perché appunto il dolore è generato da una condizione di paura possiamo semplicemente dire che nella nostra sfera psichica laddove ci sia qualcosa di irrisolto e quando dobbiamo traballare la nostra zona di conforto perché c'è qualcosa che non riusciamo ad integrare e non riusciamo a comprendere e quando la consapevolezza che ci attende dal barco appunto della paura non viene acquisita allora noi cominciamo a entrare in sofferenza cominciamo a provare dolore ma che cos'è allora il dolore il dolore è generato dalla paura ed è una manifestazione della paura stessa e noi stiamo male quando proviamo questa paura ma sia dal punto di vista psichico sia dal punto di vista fisico perché il nostro corpo rappresenta appunto l'evidenza della realtà virtuale cioè siccome è anche sessuato a dei sensi e a delle limitazioni fisiche è proprio l'esponente numero uno della realtà virtuale e quindi è considerato dall'essere profondo il veicolo entro il quale svolgere l'attività esperienziale. A un certo punto la paura cioè quando il comando di questo veicolo viene esclusivamente affidato alla nostra parte egoica ossia al centro virtuale e noi ci identifichiamo esattamente in questa visione parziale e quindi proviamo paura e viviamo nella divisione dimenticandoci del nostro sé e di chi siamo davvero noi cerchiamo di costruire con questo veicolo la nostra zona di comfort ma che cosa succede che al traballare di quella zona perché il nostro vero sé fa sempre sentire la sua voce ed esercita comunque la sua volontà al di là della finta volontà egoica e questa volontà però viene esercitata comunque sempre ma non viene percepita da colui che è identificato con il centro egoico e con la paura del centro egoico e quindi la vive inconsciamente e questo inconscio che vuol farsi sentire nella realtà conscia si manifesta attraverso il dolore quindi la paura apre uno squarcio virtuale entro il quale può manifestarsi il grido di azione e di volontà appunto del stesso essere profondo a questo punto che cosa succede che noi ci troviamo in mezzo a due realtà non integrate e che in realtà sono anche finte le due realtà cioè non ci sono due realtà esiste solo la volontà dell'essere profondo ma noi ci troviamo nella condizione divisa della realtà virtuale e ci siamo identificati con una finta volontà che ci organizza la vita una mentalità che ci dà tutte le dritte per andare avanti e tutte le volte che noi non abbiamo una dritta e non c'è un programma razionale che ci possa dare quella dritta noi proviamo paura non acquisiamo consapevolezza e siamo come bloccati possiamo vivere eternamente in paura come possiamo esercitare un atto di coraggio ascoltando e rendendo conscia quella nostra volontà interiore quella reale e andando avanti procedendo nella virtualità avendo la consapevolezza di chi si è davvero a questo punto il dolore fa male il dolore provoca una sensazione profonda di irrisoluzione perché questa realtà di comfort non può mettere una pezza a quella che non può sovrapporsi a quella che è la versione la visione globale una versione una visione parziale può soltanto creare fastidio alla visione globale dell'essere profondo ma prima o poi è destinata la paura a finire esattamente come è destinato a finire il centro egoico perché il centro egoico si trova in una dimensione di spazio e di tempo dove le cose iniziano e finiscono quindi necessariamente noi dobbiamo acquisire questa consapevolezza che anche la paura è destinata a finire e questa fine è soltanto segnata dalla nostra volontà nel momento in cui noi esercitiamo un atto di volontà è finita la paura perché il nostro essere profondo riesce a pensare nello squarcio virtuale che il dolore ha creato e riesce a fluire quindi noi non proviamo più dolore nel momento in cui abbiamo capito chi siamo davvero e tutte le volte che noi acquisiamo consapevolezza abbandoniamo la paura abbandoniamo il dolore è chiaro che ci sono diversi livelli nella virtualità posti in essere da una volontà fittizia che è quella egoica quindi ci sono diversi livelli di paura e noi a questo grado a questa gradualità assegniamo dei punteggi e poi ci sono delle paure completamente irrisolte e la paura base fondamentale è appunto quella della morte cioè della separazione dal sé e della nascita della visione parziale cioè del centro egoico tutto questo meccanismo è messo in atto dalla nostra volontà reale della volontà dell'essere profondo affinché si possa esplicare la sua esperienza il suo atto conoscitivo e possa comprendere chi è davvero necessario a questo punto sottolineare e che noi possiamo uscire dal dolore ogni volta che vogliamo uscire dal dolore sembra qualcosa di strano sembra qualcosa di impossibile però la fisicità che rappresenta la simbologia virtuale ed è un riflesso di quella che è la nostra psiche la fisicità guarisce cioè esce dalla condizione di paura laddove c'è un'integrazione esistenziale fino a che noi non tacciamo a noi stessi e non capiamo qual è il problema da risolvere e ci mettiamo le mani agli occhi per avere una poca visione perché non vogliamo risolvere noi stiamo frapponendo tra il nostro essere profondo e la realtà virtuale un centro finto che prenderà il potere su di noi e noi lo chiameremo dio caso fortuna lo chiameremo in tanti modi possibili ma questo centro ci mantiene nella visione parziale ci mantiene nella divisione questo centro lo creiamo noi ogni volta che decidiamo di non cambiare e sappiamo perfettamente anche a livello inconscio che per noi cambiare è molto difficile perché cambiare significa morire perché morire significa staccarsi da se stessi ed integrare poi quella parte di se stessi dentro se stessi una volta che si è staccato è un processo di disallineamento e riallineamento di non comprensione è un processo che porterà ad essere quello che si è e si è sempre stato e sempre sarà ciao al prossimo post ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti